Oggi si ponga fine ad un'avvertenza che ha assunto talora dei toni caffiani, nei quali sono emerse delle pulsioni incontrollate e incontrollabili, ma noi abbiamo esercitato l'arte della pazienza, alla fine è prevalsa la ragione e quindi credo che da questo punto di vista oggi volge al bello. Sindaco, si posso definire definitivamente in archivio le polemiche di queste settimane, in particolare degli ultimi weekend di caos? Bisogna anche in questo caos che si è ingenerato, bisogna discernere perché non è come la stampa o come alcuni vogliono far intravedere, c'è da fare invece delle considerazioni libere ed intelligenti e possibilmente leali che possono disarticolare il messaggio e far capire invece cosa è veramente successo. Ora il comandante dei vigili urbani potrà disporre serenamente gli ordini di servizio per quanto riguarda la tornistica dei vigili urbani e credo che già dal prossimo weekend saremo in condizioni di maggiore tranquillità. Devo dire che c'è un'affluenza inaspettata, incredibile, oltre ogni misura e oltre ogni capacità di previsione. Anche nei giorni feriali arrivano quantità importanti di turisti, il che significa che la cosa funziona, insomma è un successo dell'amministrazione, è un successo dell'impostazione che vuole dare Enzo De Luca alla Salerno città turistica.